Spingi il bottone Mattina a Mondavio Mattina a Mondavio Che mattina? Come che è? Andiamo Andiamo a comprare il giornale Poi spingi il bottone e la fai, va bene? Esatto Andiamo a comprare il giornale Nella Rocca Nella Rocca È l'amiche, è l'amiche, è l'amiche, è l'amiche, è l'amiche Quando siamo andati alla mia festa Sì Ma va, pensavo al passio, qua è Mondavio Che? Questo è Mondavio Questo è Mondavio Questo paesino Guarda Quello paesino No, quello è Orciano Quello è Orciano Guarda, dov'è? Di là? Che? Guarda, dov'è? Guarda, dov'è?